Ciao ragazzi e benvenuti, questo video nasce da una serie di Instagram Stories che ho registrato qualche giorno fa Ho ricevuto un pacco da Banggood, l'ho aperto su Instagram, qualora non mi seguiste su Instagram ragazzi mi raccomando Antonio.seria, trovate tutto in infobox, seguitemi E in queste Stories ho appunto unboxato questo pacco che mi è arrivato da Banggood Ebbene, cosa conteneva questo pacco? Conteneva questa qui Si tratta di una lavagnetta LCD Di cosa si tratta? Si è vista tanto in giro ultimamente, io l'ho vista anche in altri canali e mi è subito piaciuta Si tratta di una tavoletta che è composta da un pannello LCD, un po' come quello della TV che c'è alle mie spalle La cosa figa di questa tavoletta è che funziona assolutamente senza energia elettrica Ma ha semplicemente una batteria qui in alto che serve a far funzionare questo tasto Quindi durerà un'eternità più o meno Ebbene ragazzi, questo pannello è comodissimo per poterci disegnare e scrivere Infatti basta utilizzare questa penna qui, come potete vedere, che così possiamo andare a scrivere, prendere degli appunti e fare quello che ci pare su questa tavoletta Poi basta cliccare questo tasto qui ed ecco che tutto sparisce Io spero si sia visto, adesso magari ve lo faccio vedere un po' più da vicino Ecco qui il disegno e poi basta cliccare questo tasto per fare sparire tutto Ebbene ragazzi, io ho pensato ad una cosa Invece che mostrarvelo semplicemente Perché non chiedere su Instagram ai miei iscritti di dirmi cosa disegnare in un video Qualcosa magari a tema Harry Potter Ebbene ragazzi, ho ricevuto tantissimi messaggi privati E quindi adesso, matita alla mano, direi di cominciare a soddisfare le vostre richieste Io vi anticipo che sono abbastanza un cane nel disegno E quindi ragazzi, non giudicatemi male per questo Cominciamo subito con la prima richiesta Il primo disegno mi è stato richiesto da Fiuma85 Che mi ha scritto Per iniziare una bella bacchetta potrebbe andare bene Quindi cominciamo con una bacchetta Io direi di fare la bacchetta di Sambuco Quindi la bacchetta di Sambuco, se non sbaglio, ha una base più o meno con questa forma Qui credo abbia delle scala nature, una cosa del genere E poi ecco che qui, andando un po' più avanti, troviamo le rune, se non sbaglio Quindi qui troviamo le nostre rune Hanno tutti quei simboli un po' strani E poi ha i vari nodi Forse ha un nodo anche alla base, non ricordo Ma sì, facciamo anche un nodo alla base, chi se ne frega Ecco qui, facciamo un nodino qui alla base E poi qui ha altri nodi Ne ha uno qui E poi continua E credo ne abbia un altro qui E poi forse c'è anche uno più piccolino, un po' più in alto Una cosa del genere E poi finisce appunta La bacchetta di Sambuco è molto lunga Quindi più o meno diciamo una cosa del genere Quindi sì Ok, scriviamoci anche un bel lumos Adesso cancelliamo tutto E passiamo al prossimo messaggio Che è di Alfonso Che mi fa una lista infinita di cose da disegnare Partiamo dalla saetta Poi mi chiede anche gli occhiali Il boccino La Nimbus 2000 La Felix La ricordella E degli strumenti da Quidditch Vediamo Cominciamo a disegnare qualcosa Per prima la saetta Che è più o meno così Molto semplice Poi abbiamo gli occhiali di Harry Che sono tondissimi Facciamo due bei cerchi Così uno e due Uniti qui al centro E poi facciamo anche i nostri Qui le nostre aste Poi vabbè Qui magari ci mettiamo anche un po' di scotch Facciamo così Che abbiamo fatto un bel reparo Più o meno gli occhiali di Harry sono questi Poi il boccino d'oro Il boccino Facciamo un bel cerchetto Poi se non sbaglio ha delle cosine così Qui ne ha altre sui lati E poi qui forse è divisa al centro Non ricordo bene Ed ha delle orecchette E delle ali Uno e due E poi qui Ecco che possiamo fare le ali Non sono proprio brevissimo Però vabbè Ragazzi Accontentiamoci Qui facciamo le varie alette Ma non è finita qui Mi ha chiesto anche una Nimbus La Nimbus Facciamola qui Allora Questo è il nodo della scopa Facciamola così Queste sono le setole della scopa Che poi va dritta dritta così Anche se non credo sia proprio dritta E poi finisce un po' con questa forma Qui magari ha quelle cose dove si vanno a mettere i piedi E qui la scritta Nimbus 2000 Beh sì Più o meno ci siamo E la Felix Felicis Ma quante cose La Felix Felicis ha questa forma così un po' ad anfora Qui c'è scritto Felix Felicis Felix E poi ha una catenina No Quella è quella di Noble Collection Quindi più o meno è tutto qui E ancora cosa mi aveva chiesto La ricordella Quella è tonda Ha un anello attorno Qui al centro Decorato Facciamolo così E poi all'interno c'è del fumo Ultima cosa Strumenti da qui Dicci Beh dai Facciamo una pluffa La pluffa è più o meno con questa forma così Credo Uno Due Tre E poi qui ha delle incavature E il simbolo di Hogwarts qui al centro Con le quattro case Bene Dopo tutto questo impegno Basta un click E cancelliamo tutto Adesso tocca a Miss HP7 Che mi chiede di disegnare Dobby Beh Dobby Già andiamo più su complicato Quindi non lo so Però Dobby è più o meno così Ha un naso abbastanza lungo Due occhi molto grandi Ha molte rughe sulla fronte È spelacchiato Facciamo anche due peli in testa E poi ha delle orecchie davvero molto grandi Quindi diciamo così E diciamo così Orecchie molto grandi E poi ha anche una faccia un po' così triste Magari ecco facciamolo un po' triste E io gli farei anche in mano un bel calzino Quindi facciamo Eh le mani sono difficili eh Qui facciamo il calzino E poi facciamo qui la mano di Dobby Niente fa davvero cagare questa mano di Dobby eh Ragazzi però dai Più o meno Facciamo anche un messaggino Qua scriviamo ciao Sono Dobby Forse Eh io non ci giurerei Ma adesso cancelliamo anche questo disegno E passiamo al prossimo Che me lo chiede Maison68 Che mi chiede di disegnare il simbolo Dei doni della morte Qui ragazzi facilissimo Ecco un bel triangolone che rappresenta il mantello Poi all'interno la nostra pietra della resurrezione E al centro la nostra bacchetta Simbolo dei doni della morte Fatto E cancellato Il prossimo messaggio invece mi è stato inviato da CMCRLXO Ragazzi voi mai un nick semplice eh E mi chiede di disegnare Harry con una spada di grifondoro E fanno su una spalla Quindi ragazzi una cosa semplice Bravi bravissimi Io ci provo Allora facciamo degli occhiali E li facciamo così Uniti al centro Facciamo una bella saetta E poi facciamo un bel sorriso Dei capelli sbarazzini Molto spelacchiati Molto così Un po' fatti alla Come capita prima Ed ecco qui la nostra faccia di Harry E poi facciamo il collo Facciamo la tunica di Hogwarts Facciamo così Così viene anche un po' più facile Ecco Questa è la tunica di Hogwarts Con le sue maniche belle larghe Ecco qui Molto larga Sembra un po' una camicia prestata E poi qui Le braccia che fuoriescono E da una parte facciamoci Un bel ok Ecco così E qui appolliamo la nostra Fanny Eh non è neanche facile Sembra un po' un tacchino Ma si facciamola tipo tacchino Facciamola così E un bel tacchino la nostra Fanny Dai va bene Non esagero Facciamola così Volevo fare proprio la cosa da tacchino Ma vabbè La facciamo così Questa è la nostra Fanny E poi qui da questa parte invece Facciamo la nostra bella spada di Grifondoro Quindi la mettiamo così Qui la nostra Elsa E poi la spadona di Grifondoro Eccola qui Ci scrivo anche Godric Che bella schifezza ragazzi E qui facciamoci anche i piedi Ormai lo completiamo Alla Crusty Clown Benissimo ragazzi Se Harry Potter fosse stato così Oggi non lo conoscerebbe nessuno Cancelliamo questo Brobrio E andiamo avanti Con il messaggio di Lillo Che mi chiede di fare un campo da Quidditch Beh il campo da Quidditch è abbastanza semplice Allora per prima cosa Dobbiamo fare tre canestri Uno, due e tre Di tre altezze diverse Se non ricordo male Uno, due e tre E altri tre da questa parte Uno, due e tre Ecco qui i nostri bei canestri Le nostre porte o canestri Non saprei Il campo è ovale Quindi facciamo un bello ovale così E poi lo dividiamo al centro Facciamo anche qui Che dove lanciano la pluffa Per la prima volta E poi qui se non sbaglio Ci sono delle cose del genere E poi abbiamo sette giocatori Per ogni squadra Questi sono i giocatori Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Si vede no? Che sono i giocatori Li facciamo così A cavallo della scopa Ole Qui Qui, 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 qui Fa davvero cagare anche questo disegno Qui, qui Facciamo le scope spelacchiate dietro Ok Ragazzi apprezzate lo sforzo Mi raccomando eh Scopa, scopa, scopa E poi facciamo la pluffa La mettiamo qui Poi mettiamo due boli di uno qui E un altro qui Che si sta affionnando sui giocatori E poi il nostro bel boccino Qui Bene Questo è un campo da quidditch Più o meno Cancelliamo anche questo E passiamo a quello di Lore04 Che mi chiede di fare la capanna di Hagrid Hagrid ha una casa abbastanza sgangherata Ha una porta con dei gradoni Qui all'ingresso Ok Più o meno Sì dai Più o meno ci siamo È circolare E poi ha un tetto abbastanza spiomente Quindi così Sembra un po' la casa dei puffi La casa di Hagrid Qui ha tutte le varie frasche secche Che vanno a formare il suo tetto E se non sbaglio Anche una sorta di piccolo stanzino Sul retro qui Dove c'è un'altra finestra Qui ne abbiamo una Qui un'altra Qui se non sbaglio C'è un'altra scaletta Che porta sul retro Ed è una sorta di palafitta Che sta sopra A dei mattoni Ci sono un sacco di mattoncini Tipo così Tipo così E poi tipo così Ragazzi Tipo molto Però mi ricordo bene Che ci sono delle zucche gigantesche Fuori casa di Hagrid Che per Halloween Lui si diverte a intagliare Con gli studenti Ma anche non è vero Però mi piace crederlo E poi qui c'è il sentiero E niente Qui c'è il fierobecco Da qualche parte Facciamo anche lui Una sorta di tacchino gigantesco Con delle zampe Così Ok Perché mi avventuro in queste cose Non lo so Sono abbastanza masochista Cancelliamo tutto E andiamo all'ultimo Che è quello di Daniele De Rosa Che mi chiede di disegnare una mandragora Ecco qui la mandragora Allora Mettiamo un bel vaso E a proposito di mandragora In tantissimi mi avete chiesto Dove io abbia preso la mia Quella che avete visto Ultimamente Nei miei video Quella me l'hanno regalata Due miei amici Che sono andati a Lucca E me l'hanno portata Come souvenir E' davvero bellissima Concordo con voi Mi è piaciuta un sacco Davvero tantissimo E ragazzi Ormai non ne posso più fare a meno Quella sarà sempre presente Nei miei video Ecco qui la mandragora Molto arrabbiata E urlante Ok Facciamoci anche i dentini Facciamoci delle foglioline Qui in testa Ecco qui Ed ecco la nostra Mandragorina Ecco la volevo fare verde Però è venuta una porcheria Però vabbè Allora Così 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 Facciamoci anche degli occhi spiritati E poi niente Dai Facciamo anche un annaffiatoio Qui Che si sta avvicinando con prepotenza Alla mandragorina Che è spaventata per questo motivo Perché non vuole farsi la doccia Quindi ecco qui La nostra bella mandragora Che anche in questo caso adesso Andiamo a cancellare Bene ragazzi Direi che dopo il mio ultimo disegno Possiamo ufficialmente dichiarare conclusa La mia carriera artistica Io devo dire che questa tavoletta è davvero Molto molto divertente E molto utile Si può tranquillamente mettere all'interno delle vostre borse Perché pesa davvero pochissimo E' super resistente Sul retro Ha anche un righello Ed è anche un mousepad Per quello che può servire E io mi sento assolutamente di consigliarvela Perché costa davvero pochissimo Come vi ho detto Trovate il link sotto In infobox Per andare a sbicciare Su Ben Good Mi raccomando Cliccateci Date un po' un'occhiata Perché ci sono davvero ultimamente Tante nuove cose interessanti E vi anticipo già Che presto arriverà un altro video Perché mi stanno mandando Una penna 3D E quindi ci divertiremo A disegnare roba di Harry Potter In 3D Quindi ragazzi Occhio a Instagram Perché vi chiederò delle novità Anche lì Quindi seguitemi Mi raccomando Io a questo punto ragazzi Vi saluto Grazie per aver giocato assieme a me Spero di avervi intrattenuto 10 minuti Io mi sono davvero tanto divertito A fare qualcosa di diverso Qui sul canale Fatemi sapere nei commenti Se vi piace questa tavoletta Se la conoscevate già Se la prenderete Io sono davvero molto entusiasta E credo che la userò parecchio Anche per prendere degli appunti Vicino al telefono Perché devo dire Che mi sembra una scelta Piuttosto ecologica Visto che andiamo a risparmiare Moltissima carta E possiamo tranquillamente Prendere i nostri appunti temporanei Magari appunto Mettendola vicino Al telefono di casa Qui E poi cancellare tutto Una volta finito Io a questo punto Vi saluto Vi do appuntamento Alla settimana prossima Con un nuovo video E ragazzi Mi raccomando Restate connessi Ciao 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 Grazie a tutti.